Francesco si sentiva costantemente osservato a casa, in ufficio, in auto. Stava diventando una vera e propria ossessione, finché un giorno si è rivolto a noi per trovare una soluzione al suo problema. Io subito ho consigliato il rilatore Microspia LKM Security. Ma che cos'è realmente un rilatore di Microspia? È un dispositivo ad alta tecnologia utilizzato per rilavare la presenza di cimici, localizzatori GPS, telecamere e microcamere nascoste in un determinato ambiente, emettendo un suono che rileva la presenza della Microspia. È un prodotto professionale utilizzato dai professionisti del campo per tutelare informazioni riservate. Francesco, grazie ai rilatori Microspia LKM Security, è riuscito a tutelare la propria privacy e per questo oggi dorme sogni tranquilli. Anche tu, come Francesco, ti senti ispirato? Da oggi sai che puoi difenderti e individuare se qualcuno ti osserva a distanza e monitora i tuoi spostamenti. Se ti è piaciuto questo video, metti il mi piace. Fammi sapere nei commenti se desideri ricevere il tutorial del rilatore LKM Security.